Oltre all'urgenza di agire attualmente nel breve termine dobbiamo rivedere i nostri sistemi energetici e vi proponiamo un'azione su tre fronti. Innanzitutto il mercato dell'elettricità interno dell'Unione Europea è un patrimonio fondamentale e ci ha aiutato moltissimo negli ultimi 20 anni, ma dobbiamo adesso assicurarci che continui a aumentare le flessibilità, le capacità di stoccaggio, ma anche la cibersicurezza. Inoltre abbiamo dato all'ACER, ovvero l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia, di condurre uno studio sui benefici e eventuali svantaggi di una riprogettazione del mercato dell'elettricità. Lo studio dovrebbe essere pronto per aprile, ma cercherò di farmi arrivare delle informazioni già verso la metà di novembre, in modo che i ministri possano avere una discussione informata. Il secondo elemento cruciale è assicurare il funzionamento e la resilienza di tutta la cornice, tutto il quadro di mercato del gas. Il gas ha un ruolo fondamentale nella transizione, ma deve diventare più verde, in forma di biometano, e gas o idrogeno rinnovabile. Per promuovere questo processo presenterò, prima della fine dell'anno, un pacchetto gestitivo complessivo per decarbonizzare i mercati del gas e dell'idrogeno entro il 2050. Ci saranno due temi fondamentali che sono particolarmente importanti nel contesto odierno. Innanzitutto la sicurezza dell'approvvigionamento e lo stoccaggio. Oggi come oggi lo stoccaggio del gas non è possibile dappertutto in Unione Europea ed è fondamentale applicare un approccio integrato a livello europeo per potenzialmente ottimizzare i costi e quindi proteggerci dalla volatilità dei prezzi. Andremo ad esaminare questioni come un più facile accesso allo stoccaggio e cerchiamo di assicurare che le capacità del stoccaggio siano utilizzate in maniera ottimale. Secondo poi vogliamo esplorare i benefici potenziali e la progettazione di un sistema di approvvigionamento comune di stock di riserve di gas comune sempre in linea con i nostri regolamenti e le nostre regole. Ed infine l'unico rimedio a lungo termine per proteggerci dagli shock della domanda e la volatilità dei prezzi è la transizione ad un sistema energetico più verde e più efficiente. L'eolica e il solare continuano ad essere la forma di elettricità più a basso prezzo. In tutta la crisi l'anno scorso gli stati membri con la maggior quota di rinnovabili nel mix energetico hanno addirittura assistito ad una discesa dei prezzi dell'elettricità per più di 1800 ore. Vorrei che sia chiaro, non facciamo tutto ciò soltanto perché la nostra politica climatica o perché l'energia rinnovabile costa tanto. No, perché vediamo che i prezzi dei fossili stanno aumentando e non abbiamo ancora energia verde disponibile per tutti quanti. Dobbiamo per tanto accelerare la transizione verde, non rallentarla. In talmente andanti modi noi abbiamo già presentato il nostro piano per evitare la situazione in cui ci troviamo adesso e in futuro. Abbiamo il Green Deal europeo, abbiamo il pacchetto Fit for 55 pronti per il 55% che presenta un piano ambizioso per passare un sistema energetico basato sui rinnovabili che operi anche in maniera molto più efficiente di quanto non sia il caso adesso. E ci renderà più indipendenti, renderà l'energia più accessibile e ridurrà la nostra impronta carbonica.